Siamo qui a ECMA 2010 con In & Motion, un nuovo sistema di airbag che è oggetto di un'iniziativa interessante. Tramite il sito ufficiale potrete registrare per essere uno dei primi 500 tester che metteranno alla prova questo prodotto che poi arriverà nel 2018. 100 millisecondi, il tempo di reazione dalla lettura dei sensori fino alla completa attivazione dell'airbag, già testato in MotoGP a velocità superiore ai 250 km orari, prodotto che arriverà fra due anni, ma questa prima fase di test creerà una community in Europa di 500 persone che daranno il loro feedback per migliorare il prodotto. Insomma, è una proposta interessante, dato un occhio al sito ufficiale, se volete informazioni, in descrizione trovate il link con la news, le foto, insomma tutte le caratteristiche di questo nuovo prodotto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!